Oggi voglio preparare delle piadine o wrap con questi ingredienti. Sono gluten free perché non useremo glutine, ma anzi non useremo assolutamente farina. Ma useremo la foglia di lattuga o insalata romana per preparare la parte esterna di queste piadine. Poi useremo tutti gli ingredienti raw o crudi e naturalmente cruelty free. Nella prima piadina ho messo della crema di anacardi che ho preparato semplicemente con anacardi frullati e un filino di sale. Ho messo anche i semi di lino. Ho messo anche i semi di canniua germogliata. Adesso metto dei pomodorini secchi, anche questi homemade, fatti con le secatrice dalla mia mamma. che ho semplicemente fatto rinvenire con un po' di acqua tiepida, non più di 30 gradi per mantenere crudi. E ho aggiunto anche un po' di cuore di lattuga o insalata romana tagliata sottile. Nella seconda invece ho messo un avocado schiacciato, ho fatto una cremina, peperone rosso crudo, peperone giallo crudo e pomodoro. Ormai sono le ultime cose della stagione, se va verso l'inverno. Metto anche qui un po' di cuore di lattuga all'interno. L'ultimo ingrediente che uso è il limone. Spruzzo all'interno di entrambe il succo di limone. Vedete voi quanto metterne in base ai vostri gusti. Io non aggiungo altro, non metto né sale e né olio. Le chiudo su se stesse. Sono pronte per essere mangiate. Forse ho esagerato un po' con il ripieno, magari ce l'ho stata un po' ingorda. O anche forse sarebbe meglio trovare delle foglie di insalata un po' più grandi. Piadina zero perché zero crudeltà verso gli animali, zero crudeltà anche verso il nostro intestino con farina e glutine e è anche completamente cruda. Qualcosa di sano da gustare anche nei momenti in cui non abbiamo tanto tempo per metterci a cucinare. Buon appetito!